La difficoltà dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il settore moda marchigiano, mancano figure specializzate e giovani. A sette anni dal sisma a Tolentino sono stati messi in vendita i moduli dell'area container, il villaggio è rimasto abitato fino ad oggi. Giochi fatti per la presentazione delle liste per le comunali del 14 e 15 maggio, ad Ancona 6 candidati sindaco e 18 liste. Calcio Serie B è iniziata in questi minuti la partita Ascoli su Tirol, alle 17.30 tocca alla Serie C, nell'Ancona debutta il nuovo mister. Ritrovati nuovi resti di abitazione e magazzini dell'epoca medievale sotto la casa del capitano ad Ancona, ora oggetto di studi da parte degli esperti. Buongiorno e benvenuti al telegiornale Rai delle Marche. Le imprese della moda lamentano la mancanza di figure specializzate come orlatori, tagliatori e addetti che sappiano usare le macchine industriali. L'appello arriva da Senigallia dove la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha organizzato una due giorni di incontro. Il servizio di apertura è di Carlo Musilli. Non stilisti ma tessitori, non designer ma operai specializzati. Il sistema della moda ha bisogno di figure tecniche al punto che nei prossimi tre anni i posti vacanti a livello nazionale potrebbero arrivare a 50.000. La stima è di CNA Federmoda che ha tenuto a Senigallia una o due giorni di incontri sullo stato del settore. Di questo passo tutte le aziende italiane che lavorano nel comparto tessile si troveranno a fronteggiare questo problema di grosso problema di ricambio generazionale per cui ci troveremo con le aziende chiuse che hanno tantissime commesse di lavoro in atto in realtà. Il problema della mancanza di personale si fa sentire in modo particolare nelle Marche dove i distretti del tessile, del cuoio e delle calzature hanno una grande importanza e la lista delle figure richieste è piuttosto lunga. Sicuramente l'orlatrice per quanto riguarda le scarpe, poi magari anche per la maglieria l'addetto alla produzione di macchine, chi manovra proprio il macchinario dei maglifici e proprio chi cuce. Poi ci sono delle figure più specifiche che possono essere magari i ricamatori, gli stampatori o i tagliatori. Il tema è come riavvicinare alla manifattura i giovani che negli anni si sono allontanati dai lavori più tecnici per diverse ragioni, alcune di carattere culturale. C'è sicuramente stata, per quanto riguarda in particolare il settore della moda, una fascinazione legata al mondo del design, dei designer, degli stilisti, senza comprendere che la grande forza del settore invece è quella che è l'attività produttiva. C'è poi il lato economico. Le retribuzioni sono spesso poco attraenti a fronte dell'impegno e richiesto dal lavoro. Una questione che, secondo le imprese, si può affrontare solo con un intervento di legge. Nel nostro paese sappiamo che c'è una grossa differenza tra il costo che sostiene l'impresa e il netto in bursa. Per questo c'è la nostra richiesta per il taglio forte del conio fiscale. Dobbiamo trovare quegli equilibri giusti perché l'impresa ha tutto un interesse a pagare bene il proprio dipendente, ma deve rimanere competitiva sul mercato. Sono stati messi in vendita i moduli dell'area container di Tolentino, allestita dopo il sisme dove tuttora abitano alcune decine di persone. Il comune, che ha deciso di dismettere il villaggio, ha proposto alloggi alternativi alle famiglie che sarebbero però stati rifiutati. Francesco Monti. Un altro passo avanti nel percorso di dismissione dell'area container di Tolentino. Il comune, come stabilito nei mesi scorsi, ha avviato le procedure di messa in vendita dei moduli abitativi in cui sono rimaste circa 40 persone. Il villaggio di via Cristoforo Colombo, realizzato in emergenza dopo il sisma, è rimasto abitato fino a oggi. La precedente amministrazione comunale aveva scelto di non richiedere le soluzioni abitative di emergenza, le cosiddette casette, per i terremotati, ma di puntare sulla costruzione di nuovi alloggi e il recupero di edifici esistenti. Un percorso in cui i tempi si sono allungati, facendo sì che per lungo tempo oltre 200 persone restassero nei container. Oggi ne sono rimaste poche decine, quasi tutte non terremotate. Il comune, fa sapere la assessora alla ricostruzione, Flavia Giombetti, ha messo a disposizione alloggi alternativi che però sono stati rifiutati. Più di dare una degna sistemazione rispetto al container, che si chiama casa, cosa altro dobbiamo offrire a queste persone? La verità è che in tanti anni purtroppo si sono abituati ad un assistenzialismo forte, troppo forte, nocivo. L'amministrazione da gennaio ha richiesto a chi ancora vive nei container il pagamento di un affitto. Nessuno però ha pagato, quindi dai mesi di gennaio e febbraio che abbiamo notificato appunto il pagamento di questi due mesi, siamo arrivati a aprile. Nel frattempo la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo per la vendita dei container con i relativi prezzi, 700 euro per ognuno dei 22 moduli singoli, 1300 per quelli doppi, 2500 per quelli quadrupli, ci sarebbe già l'interessamento di alcuni privati. Manca un mese alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Questa mattina scadevano i termini per presentare le liste e i candidati. Solo ad Ancona sono 6 gli aspiranti sindaco e 18 le liste a sostegno. Guido Maurino. I giochi sono fatti o quasi, almeno per sapere i nomi dei candidati sindaci e dei consiglieri in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. A mezzogiorno sono scaduti i termini per presentare le liste. Lunedì, poi, si riuniranno le commissioni elettorali per le ultime verifiche e dare il via al rush finale di una campagna elettorale che è ormai partita da settimane. Il comune più grande al voto è quello di Ancona, nelle Marche. Dopo due mandati Valeria Mancinelli non è rieleggibile. La sfida per il nuovo sindaco del capoluogo si giocherà fra sei candidati, due in più di cinque anni fa. Il centrosinistra schiera al fianco della candidata Ida Simonella sei liste. Il Partito Democratico, la lista civica della candidata Ancona Futura, la lista del suo sfidante alle primarie, Pesaresi, Ancona Diamoci del Noi e ancora Ancona Popolare Centristi per Ancona, i Riformisti che riunisce Azione, Italia Viva e Partito Socialista e i Repubblicani. Il centrodestra ha scelto Daniele Silvetti come candidato sindaco e al suo fianco ci sono sette liste. Oltre ai partiti Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc, Silvetti ha raccolto il sostegno di tre liste civiche. Ancona protagonista è quella che lui stesso ha promosso. Poi ci sono Rinascere Ancona e l'ultima arrivata Civitas Civici salvi per Ancona. Il Movimento 5 Stelle candida Enrico Sparapani. Francesco Rubini, l'unico degli aspiranti sindaco che correva già 5 anni fa, ha l'appoggio di due liste, Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta. Roberto Rubegni è sostenuto dai Verdi e poi c'è Marco Bottino che corre come sindaco con la lista civica Ripartiamo dei Giovani. Ancona, tuttavia, non è il solo comune ad andare al voto. Nelle Marche ci sono 183.000 elettori chiamati alle urne fra un mese. I centri più grandi sono Falconara Marittima, Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio. L'impatto del cambiamento climatico sul territorio marchigiano. A Urbino, esperti a confronto per discutere di criticità e soluzioni. Per Paolo Rivalta. Siamo passati da agosto con tavole rotonde e discussioni sul periodo di siccità così prolungato e così duro a un settembre così drammatico perché a un certo punto l'acqua è arrivata tutta assieme. Il segnale più forte a livello locale è arrivato con l'alluvione di fine estate, un momento che segnala drammaticamente l'esigenza di studiare e gestire il territorio di pari passo con i cambiamenti di un clima che propone sempre più spesso eventi estremi. Non ci sono solo conseguenze meteorologiche ma anche conseguenze sociali, economiche, importanti. Basta ricordare l'ultima alluvione, quella dell'autunno scorso, per capire l'importanza di... non dico prevedere che è molto complicato ma capire le tendenze di lungo periodo perché quelle dovrebbero poi portarci a prendere delle decisioni per la gestione del territorio. In questo campo l'interlocutore diretto è la Regione che appena un mese fa ha presentato il suo piano di adattamento al cambiamento climatico e che ha voluto essere presente ad Urbino con l'assessore Aguzzi in una giornata di confronto con gli esperti accademici. Un punto è anche quello di aumentare la consapevolezza delle persone, non solo l'idea delle nuove soluzioni rispetto alle nuove criticità ma anche la necessità di avviare dei processi di consapevolezza sociale che siano più solidi perché senza la consapevolezza sociale si farà fatica a portare avanti le necessarie azioni. Grazie all'attività plurisecolare della stazione meteorologica fondata a Urbino da Alessandro Serpieri si può affermare che localmente la temperatura si è alzata di un grado e mezzo contro un riscaldamento globale di un grado virgola uno. Cercare semplicemente di contenere i fenomeni non basta più. Ora c'è una nuova fase alla quale dobbiamo andare e dobbiamo capire che la mitigazione non è la sola cosa che dobbiamo fare ma dobbiamo avviare delle politiche di adattamento a quelli che saranno gli impatti. Torna a crescere nelle marche la popolazione dei lupi. Dopo anni di salvaguardia della specie l'espansione in aree collinare e costiere riaccende le tensioni con l'uomo. Ci dice di più Federico Capezza. 50 anni fa era un animale quasi estinto. Oggi è in piena espansione ed è tornato a popolare zone dove era scomparso da secoli. Da sempre protagonista di un rapporto conflittuale con l'uomo, il lupo è considerato un problema soprattutto per l'allevamento. Sono oltre 1800 i capi di bestiame predati negli ultimi 5 anni nelle Marche con relativo aumento degli indennizi regionali per i pastori. Ma crescono anche le segnalazioni in aree urbane e costiere e i casi di aggressioni nei confronti dei cani domestici con i quali spesso avviene l'ibridazione. Così come soprattutto nelle aree montane si registrano episodi di uccisioni dei lupi da parte di cacciatori o allevatori. Tramito realtà il lupo è al centro di un convegno a Montelupone con esperti di settore che hanno delineato la storia di questo animale sempre temuto e spesso perseguitato dall'uomo. Anche a Montelupone come in altri territori abbiamo riscontrato la presenza di questo animale. Più volte abbiamo parlato della necessità di affrontare questo tema proprio per far conoscere il problema a tutta la popolazione perché la popolazione potesse affrontarlo in maniera competente. Ma il lupo è un pericolo per l'uomo? Un recente caso di aggressione in Toscana di una donna a passeggio con il proprio cane ha rilanciato il dibattito anche sull'onda dell'uccisione in Trentino di un runner da parte di un orsa. L'incidente con un lupo è estremamente basso ma è potenzialmente possibile, assolutamente possibile ma ripetiamo sono animali selvatici, vanno trattati come tali. Cosa fare in caso di incontro con un lupo? Il lupo quando si avvicina deve essere spaventato. Noi possiamo spaventare il lupo a differenza dell'orso, l'orso non lo possiamo spaventare perché l'orso è molto più forte di noi. Cattivo delle fiabe per eccellenza, il lupo sarà al centro lunedì prossimo di una seduta della conferenza Stato-Regioni per mettere a punto un piano nazionale di monitoraggio e gestione. Una tavola rotonda sul tema della desertificazione bancaria e sulla necessità di avvicinarsi ai cittadini da un punto di vista finanziario. Se ne è parlato a Camerino in una giornata di studi e confronto organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo, a cui hanno partecipato anche il presidente Giuseppe Maino, a capo dell'Istituto Centrale del Credito Cooperativo, e Augusto Dell'Erba, presidente di Federcassa, oltre a rappresentanti dell'Ateneo. Per l'occasione inaugurata anche una nuova figliale, Matteo Tacconi. All'università è il punto su speranze e difficoltà della ricostruzione. A promuoverlo la Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini, 102 anni fa la nascita a Pieve Torina. La grande scossa del 2016 ha lesionato diverse sue filiali, i dipendenti costretti a lavorare nei container, come tanta altra gente del cratere sismico. Una città dove il tempo sembra non scorrere più, Camerino, e dove si lotta ogni giorno contro la rassegnazione, ma è proprio qui che si coglie il seme della determinazione, secondo i dirigenti della banca. Di qui la missione di questi anni è restare sul territorio, andando in controcorrente rispetto al processo di desertificazione bancaria. Presente anche le istituzioni, dal presidente della regione, Francesco Acquaroli, al commissario straordinario per il post-sisma, Guido Castelli. L'impegno per il cratere, hanno detto, non viene meno, e la ricostruzione tra nuove ordinanze e fondi, anche dal PNRR, può finalmente accelerare. Intanto c'è una nuova filiale del credito cooperativo dei Sibillini a Camerino. Un piano dello stabile è a disposizione delle associazioni culturali della città, la cui sede è ancora inagibile. Passiamo ora allo sport partendo dal calcio. Si sta giocando in questo momento Ascoli su Tirol. La partita è iniziata alle 14 e il punteggio è ancora fisso sullo 0-0. Scendono invece in campo nel pomeriggio alle 17.30 le quattro squadre marchigiane di Serie C. A due giornate dalla fine, Fermana e Re Canatese sperano nei play-off, mentre Vis Pesaro cerca punti salvezza. Mister Donadel debutta sulla panchina dell'Ancona. I dettagli nel servizio. L'annuncio martedì, poi tre allenamenti su quattro a porte chiuse. Fin qui Marco Donadel, nuovo allenatore dell'Ancona, ha tenuto nascoste le sue carte. Oggi le svelerà nel match casalingo contro il Rimini. Si va verso un 3-4-1-2, in cui mancheranno gli squalificati Mondonico e De Santis e l'infortunato Gatto. Recupera Melchiorri, non al meglio Petrella, al massimo dalla panchina. Al di là del modulo, è importante cambiare rotta. Sette punti nelle ultime dieci gare, vittoria che manca da oltre un mese. La matematica non esclude il quarto posto, anche se più realistico concentrarsi sul sesto. A un punto è al momento in mano a Ponte d'Era. I toscani sono in trasferta nelle Marche, ospiti della Fermana. A due giornate dalla fine, i giallo-blu sono a meno tre dai play-off. Una vittoria terrebbe aperti i giochi fino all'ultimo. Contro un Ponte d'Era, già certo di qualificarsi a fare la differenza, potrebbero essere le diverse motivazioni. Soprattutto perché è l'ultima partita in casa. Stessi punti della Fermana e stesso obiettivo per la Re Canatese. Il match è sulla carta proibitivo in casa della Virtus Entella, seconda, ma i giallorossi sono abituati a stupire. E nel girone di ritorno non hanno mai perso in trasferta. Sfidenzialità anche per la Vispesaro, a Cesena. Dopo aver scacciato l'incubo ultimo posto e quindi retrocessione diretta, i biancorossi devono fare il risultato per sperare nella salvezza, senza passare dai play-out. La Torres è a tre punti e gioca contro il quotato Gubbio. La corsa sui sardi è difficile, ma non impossibile. Nel volley femminile inizia oggi alle 18 la corsa verso l'Europa di Vallefoglia. La Megabox sarà infatti impegnata contro Pinerolo per gara 1 dei play-off, che porteranno una squadra italiana a qualificarsi alla prossima Challenge Cup. In regular season, Vallefoglia è arrivata nona, fuori dai play-off scudetto, mentre Pinerolo si è salvata soltanto all'ultima giornata, piazzandosi dodicesima. Si gioca al Palacarneroli di Urbino, con ritorno mercoledì in Piemonte ed eventuale gara 3 sabato di nuovo a Urbino. I lavori di restauro alla casa del capitano ad Ancona hanno portato alla luce resti di abitazioni e magazzini dell'epoca medievale, nuovi reperti che testimoniano la ricchezza di un patrimonio archeologico ancora poco valorizzato. Federico Capezza. Sotto cemento ed asfalto riaffiorano tracce dell'Ancona medievale rinascimentale, un ritrovamento avvenuto nelle scorse settimane durante i lavori di restauro della casa del capitano, nel cuore del porto d'Orico. Gli scavi hanno portato alla luce delle strutture murarie, che si riferiscono a caseggiati, a strutture di magazzino, ad abitazioni, che si sovrappongono, si intersegono e si distribuiscono in un periodo cronologico dal X al XVIII secolo dopo Cristo. Il saggio stratigrafico però si è imbattuto quasi subito nell'acqua di Risalita, impedendo così la possibile scoperta di testimonianze più antiche e importanti. Le strutture emerse sono già note grazie ai registri catastali dell'Ottocento, ma solo in questi giorni hanno potuto rivedere la luce. Ancora per poco, perché già la prossima settimana ripartirà il cantiere per la realizzazione, a fianco all'edificio del XIII secolo, di una piazzetta con aree verdi. Tre aperture nel muro consentiranno la vista dei resti dell'antico porto romano, un'area archeologica che da anni attende di essere valorizzata. Il progetto, rimasto lungo nel cassetto e rallentato anche da fattori economici, dovrebbe partire entro pochi mesi. Sono interventi che consentono di collegare le due realtà attuali del porto con la realtà storica antica della città romana di Ancona. Un percorso che trova il suo culmine nell'area dell'Anfiteatro e delle Terme Romane, sul Colle Guasco, con nuovi scavi, restauri e la predisposizione di itinerari che rendano finalmente fruibile un patrimonio finora prigioniero di cancelli e recinzioni. Il Ministero della Cultura ha erogato un primo finanziamento di 45 mila euro, cui ne seguiranno altri, altri per la prosecuzione degli scavi a Fano, nel sito in cui potrebbero essere emersi i resti della Basilica di Vitruvio, di cui l'architetto e scrittore romano parlò nel libro De Architettura. Presentato a Sansevrino un volume che raccoglie le opere del Marec, il museo dedicato all'arte recuperata dal terremoto del 2016. Ci dice di più Damiano Fedeli. Il nome Marec sulla copertina del volume è tagliato, ma non si tratta di un errore di stampa, ma qualcosa di voluto. Rappresenta una frattura, un taglio, come la ferita che anche all'arte il sisma del 2016 ha causato. A quasi un anno dalla sua nascita, nel giugno 2022, il Museo dell'Arte recuperata di Sansevrino si racconta adesso in un libro, sostenuto come l'intera collezione anche da un finanziamento europeo. Non è un catalogo scientifico, ma esattamente il volume che io volevo che fosse, perché rappresenta un po' lo spirito di questo museo che è un unicum, è un museo che racconta delle opere salvate dalle chiese, agli edifici della nostra ciriocesi dopo il terremoto del 2016. Sono 3.500 i beni culturali ospitati nel museo nel Palazzo Vescovile di Sansevrino, una casa temporanea per l'arte, non un semplice deposito, ma un percorso con una propria identità che le opere le racconta e le valorizza. Questo museo rappresenta la bellezza di questo territorio, dopo le opere d'arte parlano ad ognuno di noi, si permettono di contemplarle, di godercele, e rappresentano anche l'identità di tanti paesi e di tante comunità di questa nostra terra così ferita. Tra i capolavori, la Madonna della Pace, dipinta nel 1490 dal Pinturicchio, o la Madonna del Monte del 1491 di Lorenzo d'Alessandro, proveniente da Caldarola, un intreccio unico di finezza di dettagli tipica del gotico e dolcezza mediterranea. Ricco anche il patrimonio di statue, ligne e rinascimentali di altezza quasi naturale. Bisogna ricordarcelo che noi abbiamo avuto un terremoto, e per noi il 2016 è una data ante e post-quem, e quindi questo volume incarna perfettamente lo spirito. Questo telegiornale termina qui la prossima edizione alle 19.35. Buon proseguimento di giornata.